Come si chiama il più bravo tenore giapponese? Nakuton Tonai Come si chiama il più grande scocciatore giapponese? Kakamukatsu Come si chiama il più imbattuto portiere di calcio giapponese? Tu tiri gli opani Come si chiama il più famoso benzinaio inglese? Serbatoio Come si chiama il postino più bravo d'America? Franco Bolle Come si chiama il più forte lanciatore di giapellotto arabo? Alijat Zakam Come si chiama il più forte lanciatore di peso arabo? Bukalana Come si chiama il barbiere arabo più maldestro? Alla mette Alla mette Alla mette Grazie a tutti.